Mazzolini, per quanto riguarda il rilancio dell'ex Cantoni, avete voltato pagina? Direi di sì, chiuso il capitolo Chilometro Verde, molto in sintesi, società di trasformazione urbana costituita nel 2011, l'ITER iniziò nel 2007, mancava il tassello del tentativo di privatizzazione della società in quanto Chilometro Verde è una società pubblica, è stato fatto nel 2013, bando europeo purtroppo è andato deserto, quindi la società è stata liquidata, capitale sociale è rientrato in comune, maggio 2014, elezione, nuova amministrazione, fatto il punto della situazione abbiamo deciso di cambiare passo, quindi abbiamo incontrato la proprietà, abbiamo chiesto di poter incontrare la proprietà, ci siamo recati a Milano a fine giugno, l'obiettivo dell'incontro era quello di fare il punto della situazione, di conoscersi e soprattutto anche quello di chiedere alla proprietà di vendere subito una parte di capannone ad un'attività già insediata a Ponte Nossa, in quanto questa attività necessita di nuovi spazi per ampliare le proprie attività, il proprio business. L'obiettivo è stato raggiunto, nei giorni scorsi la proprietà, quindi la Cantoni TC, ha venduto a un'azienda di Ponte Nossa circa mille metri quadri, quindi io leggerei questo fatto come un fatto molto positivo e un'apertura da parte della proprietà nei confronti del comune, quindi stiamo instaurando un rapporto proficuo che spero possa portare nel futuro a breve termine comunque a delle scelte positive che potrebbero portare a riqualificare l'intera area. Come amministrazione ci siamo posti l'obiettivo di puntare sulla riqualificazione dell'area e ovviamente non siamo i proprietari, ma faremo tutto quanto è possibile, quanto è nelle possibilità di un ente, di poter così rendere possibile questo progetto, ambizioso progetto. La destinazione di quell'area per voi è quella produttiva? Assolutamente sì, siamo convinti che Ponte Nossa è un paese che ha sempre avuto la vocazione produttiva fin da inizio del Novecento e per quanto è conformato il territorio, quindi siamo il primo paese dell'Alta Valle, ma comunque paese di fondo valle, siamo convinti che le strutture o comunque le infrastrutture possano essere quelle ancora che abbiano la vocazione produttiva. In questo momento è un'area diciamo degradata, ma potrebbe anche essere un'area che dia la possibilità in futuro di nuovi insediamenti produttivi, noi crediamo in questo. E c'è già una via che state tentando? Nel 2012 con Regione Lombardia ci fu la possibilità di aprire un accordo di programma che avrebbe potuto portare un finanziamento a fondo perduto di un milione di euro per aprire un incubatore di impresa. A marzo del 2014, prima delle elezioni, mi sono recato a Milano, siamo recati a Milano chiedendo la possibilità di non chiudere questo accordo di programma ma di tenerlo aperto in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione. Così è stato, Regione ha accettato la possibilità di mantenere aperto fino al 30 settembre l'accordo di programma. Giovedì prossimo alle 14.30 saremo in Regione con la dottoressa Inghirami, proprietaria con la proprietà dell'area, per discutere questo accordo di programma. Ecco, ma che cos'è questo incubatore di impresa? L'incubatore di impresa è una struttura che ha l'obiettivo di favorire la nascita di nuove aziende, di nuove imprese, definite start-up, e lo farebbe attraverso la fornitura di spazi e di servizi adeguati. Ad esempio, una nuova azienda che avesse la necessità, la voglia, la capacità di portare e di far nascere un'idea potrebbe contare su spazi di lavoro, uffici, sale e riunioni gratuitamente o a canone estremamente ridotto e quindi avere la possibilità di concentrarsi principalmente sulla propria idea di business. A corredo ci sarebbero anche servizi come corsi di formazione e una mediazione attraverso anche servizi forniti da associazioni di categoria.